Fare una silent disco è davvero molto semplice. Abbiamo bisogno di un paio di cuffie wireless, queste hanno tre canali, quindi possiamo avere tre generi di musica diversi, un ripetitore FM con un raggio che arriva fino a 500 metri e poi la musica può arrivare da qualsiasi tipo di device, da un telefonino, da un tablet, oppure un mixer con due lettori CD o perché no, due piatti, o un controller MIDI collegato a un computer. Grazie a tutti.